Ben ritrovati in questo nuovo video articolo dove avremo modo di parlare di un tema importante per tutti i professionisti delle scienze motorie, cioè concetti di metodologia dell'allenamento. Quante volte ci è capitato di confrontarci con professionisti e di notare un'idea differente su come allenare un medesimo cliente? Notiamo spesso che vi è una tendenza da parte degli addetti ai lavori di proiettare ciò che ha funzionato su di loro in prima persona anche sul proprio cliente, contravvenendo al principio dell'individualizzazione e della progressività del carico di lavoro. Come è possibile in un ambito dove alcuni principi di base dovrebbero essere assodati si trovino così tanti commenti discordanti su come allenare un soggetto in determinate condizioni? Pensiamo che questo sia dovuto a propri preconcetti personali sul mondo dell'allenamento e della metodologia e alla mancanza di ragionamenti complessi nel tentativo di eseguire un copia e incolla di quello che fanno altri o addirittura di ragionare secondo cosa è servito a noi. Questo lo vediamo quotidianamente a seguito di corsi di formazione. I tecnici si iscrivono, vedono una serie di esercizi e li provano e poi applicano quanto visto su tutti. Ed è questo il grande errore. Ma com'è possibile che non ci si domandi come applicare certi principi? E nessuno che dica sì, questo esercizio proposto con queste modalità va bene solamente però in queste specifiche condizioni e per questi determinati obiettivi. Non può essere adatto a tutti e per tutti. Dovremmo sempre porci la domanda perché sto proponendo questo esercizio e con quale finalità? Il professionista dovrebbe comprendere quando è utile utilizzare certi mezzi e metodi e quando al contrario è inutile se non addirittura dannoso. Monitorare, testare, osservare, raccogliere dati dovrebbe essere la base per tutti noi. Purtroppo questo non ci viene insegnato neppure nel luogo che dovrebbe essere la madre della nostra professione. Se siamo appassionati di una qualsivoglia tipologia di lavoro ci verrà di applicare per qualsiasi richiesta del cliente i principi di quella disciplina. Faccio un esempio che è solo indicativo. È di moda lo stacco sumo e magari abbiamo anche frequentato un corso di formazione? Dal giorno dopo i nostri clienti, tutti a prescindere, faranno stacco sumo. Ma come possiamo pensare di allenare certi pattern motori senza chiederci se possono tornare utili per quel caso specifico? E se fossero controproducenti in alcuni frangenti? Tutti hanno un parere, ma troppo spesso senza ragionare sul processo che li ha portati ad avere quel parere. La stessa idea che si sono fatti è contaminata spesso da preconcetti sul cosa parrebbe più utile per loro, ma non su cose realmente più utile. E presto o tardi si scopre che non vi è alcun ragionamento alla base, ma solo un pregiudizio dettato dalla propria esperienza. È come se facessimo fare lavori con sovraccarichi ad esaurimento a tutti, dal giovane prestante all'anziano con evidenti problemi di locomozione di base, solo con l'idea che quella metodologia sia la migliore in assoluto, salvo poi scoprire, e oggi è praticamente un dato di fatto, non essere così. Considerare utili tipologie di lavoro da noi stesse praticate e sottolineare inutili tutte le altre non ci fa apparire più professionali ed esperti, ma semmai il contrario. Chi studia il movimento umano dovrebbe studiare meno metodi e più principi, sull'idea che non tutto può essere utile, ma al contrario tutto può essere dannoso se non correttamente dosato e contestualizzato. Il concetto di dosing, infatti, deve essere sempre preso in considerazione, cioè la possibilità di somministrare esercitazioni differenti ai nostri clienti in base all'obiettivo e alle necessità individuali. Per l'appunto, dosare i mezzi e i metodi con un filo logico che porti ad un processo di condizionamento fisico specifico è utile per quel determinato caso. Per l'appunto, la parola processo identifica un passaggio e una successione di eventi in cui rientrano metodi e mezzi allenanti che possano garantire un miglioramento delle condizioni fisiche individuali. La programmazione del lavoro deve essere slegata da cosa ci piace proporre al cliente. Domandiamoci piuttosto cosa serva realmente al cliente. Cosa pensate di quanto detto e soprattutto come fate a valutare le qualità di base dei vostri clienti e come strutturare un percorso sensato per le loro esigenze? Scriveteci un commento qui sotto e fateci sapere la vostra opinione. Se ci state seguendo su Facebook e vi è piaciuto il video, mettete un like e condividetelo. Nel caso foste su YouTube, ricordatevi che oltre all'iscrivervi al canale, sarà necessario premere sull'apposita campanella per rimanere aggiornati di settimana in settimana. In descrizione vi lasciamo un link di approfondimento e per tutti i colori interessati a corsi avanzati sul personal training, lasciamo in rimando ai corsi di alta formazione Corebo sul nostro sito www.corebosport.com. Grazie a tutti e ci rivediamo al prossimo video.